Cari amici vicini e lontani, ben giunti a un'altra puntata del Casino Ierioggi. Questa sarà l'ultima puntata del Casino Ierioggi, pur che dopo non mi viene in mente qualcosa e me lo invento, ma d'altronde con il di Ierioggi dedicati proprio alla città di Cassino, quello che era in questo libro è finito, c'è poco altro da raccontarvi. Vi ricordo che le fotografie che avete visto nelle puntate precedenti sono una minima parte di quelle apparse nei due libri, sia quello di Roma che questo di Casino. Dove potete trovare questo libro di Casino Ierioggi fatto da me e Marco Marzilli nel lontano 2007? Penso soltanto su qualche libreria online che l'abbia tenuto, ma dubito fortemente. L'unica che chiedeva è la Herald editrice, io non so l'indirizzo, non so nulla e non lo voglio neanche sapere, però la trovate online, quindi cercate lì e vedete un po' se ce l'hanno. L'unico handicap che ha questo libro, lo dico sinceramente, è il prezzo, costava allora di listino 70 euro. Mi rendo conto che forse era un po' troppo. Vabbè, ma ormai è andata, d'altronde ormai le fotografie ieri e oggi sulla seconda guerra mondiale, sulla campagna d'Italia e su Casino dilagano ampiamente in varie pagine di Facebook e non solo lì. Quindi adesso non rimane altro che vederle queste foto. Sperando che poi, come vi ho detto, mi gira qualche altra cosa per la testa, ma state pur certo che mi dicono che sono un tipo creativo, dato che il mio ex mestiere di fare il grafico pubblicitario mi imponeva questa funzione. Vi saluto tutti ancora e vi lascio alla visione delle fotografie ieri e oggi di Casino Città. Grazie per la visione delle caratteristiche. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.